Più aule scolastiche per gli studenti del Carrara e del Paladini Civitali. La richiesta, rivolta alla provincia di Lucca, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio d'Istituto del Carrara. Come noto, l'Istituto di Viale Marconi per il prossimo anno scolastico è stato chiamato ad ospitare anche gli alunni del Civitali, dopo la chiusura della scuola di Via San Nicolao, mentre gli studenti del Paladini faranno lezione nei prefabbricati al Campo di Marte. Secondo insegnanti, dirigenti ed alunni dell'Istituto Commerciale, però non è possibile per le tre scuole iniziare l'anno con un numero di aule inferiore al numero complessivo delle classi, cosa che costringerebbe all'uso a rotazione delle aule stesse e dei laboratori. Facendo i conti, al Carrara mancherebbero quattro o cinque aule, al Civitali 3 e al Paladini 2. Per risolvere la situazione, il Consiglio d'Istituto, nella mozione approvata, chiede che la provincia noleggi un numero maggiore di prefabbricati rispetto a quanto previsto. Questo perché, concludono insegnanti e alunni del Carrara, non è possibile sacrificare il diritto allo studio in nome del contenimento dei costi. Intanto proprio dalla provincia arriva la notizia che è in corso la gara pubblica per il noleggio dei moduli prefabbricati in questione e che sono in fase di svolgimento i lavori all'edificio dell'ex centro trasfusionale al Campo di Marte, che ospiterà due laboratori e dodici aule. Tutto questo mentre ormai manca meno di un mese allo squillare della prima campanella.